buongiornissimo giornata decisamente nuvolosa spero che la macchina ci sia ancora niente quest'oggi andrò alla prossima tappa e starò lì un paio di giorni niente tutto qua quindi magari riesco a fare un po di giri o cose simili sarebbe carina vi saluto che mi preparo e poi parto è tipo è due ore e mezza da qua più o meno quindi adesso sono quasi le 9 di mattina dovrei arrivare tranquillamente per le 11 e mezza o comunque mezzogiorno alla fine ho provato ieri sera sti cosi qua sono buoni sono molto buoni sono tipo delle gelatine morbide con questa roba sopra a dirampone sono della miller belle rinfrescanti tra l'altro penso siano cinese in realtà i tizi che mi ospitano li ho sentiti parlare un po ieri sera e sembrava cinese ricordate sempre chi fa più di un viaggio è debole è molto debole a costo di morire di morirci porto tutto in una volta sola bene 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 questo percorso si vaffanculo google allora 252 chilometri e due ore e 46 minuti circa il problema è che non posso fare il check in prima delle 7 di sera o le 5 non ho capito perché nello stesso messaggio c'erano due orari differenti e quindi boh starò un po in giro quanto pare come potete notare ho cambiato maglioncino perché l'altro era troppo caldo adesso ci sono 8 gradi sono le 9 e mezza di mattina quindi immagino che la temperatura salirà e visto che per me 8 gradi è già abbastanza caldino ho cambiato ma allora esistono anche in tedesca le cazze di code incredibile questo è un miracolo è un miracolo indovinate chi doveva andare a fare benzina e non ha potuto bene dopo 20 minuti di lavori in corso e bestemmie finalmente posso andare a 100 all'ora la velocità di gesù bambino quando cadeva dalle rupi due ore e mezza mi dice due ore e mezza di sofferenza sto passando sopra il po e niente c'è sto ponte qua brutto e c'è una cosa io ho quasi finito la benza e non sto trovando un cazzo di benzinaro e quindi sono un po infastidito dunque 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 sono dovuto uscire da quella minchia di autostrada perché a quanto pare non esistono benzinai al di sopra di essa e quindi visto che sono praticamente in riserva mi fermo qua da qualche parte a far benzina dovrebbe essere a un chilometro comunque io non so cosa cazzo abbia google ma c'ha dei problemi seri col navigatore nel senso che gli dici cazzo porco dio portami a un benzinaio non la capisci a volte mi porta in italia non riesco a capire come mai cioè per quale motivo 1789 beh dai almeno stavolta ho fatto più di 10 litri boh facciamo così dovrebbe bastare dai facciamo 25 dai 25 euro please affanculo boh io non sto capendo c'è allora a berlino tutti fissati con l'fp p2 come cazzo si chiama annover pure nel posto di ieri bastavano quelle normali e qua non le mette un cazzo di nessuno non sto capendo giuro boh allora già che ci sono mi sono fatto dare il coso per la pressione delle gomme perché ce le avevo abbastanza altine perché andava sotto zero di tanto il suo avilnius quindi adesso gli do una spompata un attimino perché aumentando la temperatura se no salgo un troppo ok dopo un paio di ere geologiche perché l'attacco era a mezzo distrutto in teoria dovrei averlo settate bene adesso devo girare un po e vedere se cosa mi legge la macchina se tutto va bene dovrebbe essere alla pressione giusta ma quanto cazzo sono forte perfette tutte e quattro 23 23 bar perché in autostrada da 24 mi passava 26 quindi era un po altina dunque in teoria in base alla benzina che ho fatto dovrei arrivare la e mi dovrebbe anche avanzare un po quindi non dovrebbero esserci problemi di autonomia fino a là indicato di dirvi che ieri sera visto che sono un po paranoico ho controllato la regolamentazione per andare nella prossima tappa e serve di registrare la propria auto in alcune zone e per fortuna l'ho controllato perché io tipo l'airbnb ce l'ho in quella zona esatta quindi ottimo quello lì con la macchina bianca che appena ha sorpassato l'audio è una testa di merda se tipo infilato per fortuna l'audio ha frenato perché sono col cazzo schiantavano come potete notare oggi le pale non mi girano così velocemente come ieri e l'altro ieri sono un po più tranquillo anche perché la prossima tappa prima di tutto è vicina e secondo starò lì un paio di giorni e quindi magari riesco a fare un po le cose con calma e mi sta per superare una macchina penso a 170 all'ora eccola e c'è una cosa che non ho capito perché in queste qua con due corsie c'è la velocità illimitata e spesso e volentieri in quelle a tre corsie c'è tipo il 130 non ha molto senso sono entrato nella netherlandia cos'è sto miracolo quindi adesso cambiano le velocità quelle robe lì spero di no come sarà il netherlandia forse era meglio controllare prima di venire qua ok decisamente come in tutti gli altri confini di stato è cambiato di nuovo tutto ma che strana cosa fa stranissimo la strada è diventata diversa è molto meglio di chi che in germania gli alberi sono diversi anche qua le costruzioni sono diverse subito subito sono diventate diverse è fighissima questa cosa mi piace è quasi piacevole girare vedendo i confini di stato quasi quasi donna ancora una test mi sa che devo fare devo fare il coso infilato nel naso 100 metri credo che strani sti semafori perché sono così larghi e cosa vuol dire 3.1 3.2 2.4 2.2 sotto scritto in piccolino probabilmente non li vedete però ci sono ok sono dentro da tipo due minuti in netherlandia ma paesagisticamente parlando già mi piace mille volte di più la germania non so come mai ma è qualcosa è cambiato non lo so mi sembra più curata forse non lo so a parte tutto ma ho visto dei cartelli strani c'era tipo nome di città e poi tipo 5.000 trattino 9.000 numeri strani non so cosa vogliono dire esattamente ma boh non penso sia la popolazione quindi non lo so e neanche la velocità c'era di nuovo c'era scritto roermond 9.000 trattino 9.900 cosa vuol dire cosa significa che cazzo di palazzo è quello lì tutto storto strano una banca what qui comunque mi sa che sono decisamente meno fiscali con la velocità grazie google perché vedo che la gente comunque va un po oltre il limite di velocità e alcuni invece vanno molto oltre il limite di velocità quindi immagino non sia come in germania dove ti uccidono se lo superi ma cosa cazzo sta facendo sto camion nella corsia di emergenza da una vita perché non 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 rientra allora una corsia normale pensavo fosse quella di emergenza invece proprio una corsia da fa comunque questa corsia speciale che immagino sia solo per i camion a sto punto è molto intelligente non possono superare stanno per i cazzi loro lì c'è la linea continua non vanno in mezzo alle palle come in tutto il resto del mondo bravi nederlandesi mi piacete già vi voglio un sacco bene non ho ancora visto un cazzo di camion in mezzo ai coglioni puid limburg 10.000 10.100 o 11.000 non ci ho fatto caso continuo a non capire sta cosa comunque manca un'ora e 25 e 132 km all'arrivo ma visto che sono estremamente in anticipo quasi 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 cazzeggio un po' magari se trovo un posto che sembra carino mi fermo giusto per cazzeggiare un po' ho appena passato un benzinaio e ho fatto caso ai prezzi ho fatto benissimo a fare benzina dove l'ho fatta era 2.2 al litro 2.2 ma come cazzo spero che sia solamente lì perché questa è tipo un'autostrada o quel cazzo che è spero vivamente che sia così solo lì perché piuttosto guarda scendo e la spingo passato un altro benzinaio 2.16 ho un po' paura forse era meglio fare il pieno prima ho appena visto un cartello stranissimo c'era limite di velocità in base all'orario che è intelligente come cosa perché tipo dalle 9 alle 6 di mattina c'è il 120 e dalle 6 di mattina alle 9 di sera c'è il 100 in base ovviamente perché c'è meno traffico di notte che di giorno e quindi puoi andare più veloce è sensata come cosa ho sbagliato uscita e mi sa che l'ho allungata di un po' non tantissimo ma decisamente un po' tra 600 metri vediamo un po' in a 76 continuano ad esserci dei numerini sotto i semafori 69.1 68.2 68.1 non capisco e ancora quella roba lì 10.000 18.900 20.000 30.000 cosa cosa sono metri è la distanza da qualcosa a qualcosa boh e il fatto di essere l'unico su questa strada mi inquieta un pochino perché sono l'unico qua e sono tutti da quell'altra parte spero si riuniscano le due strade ok si sono riunite le strade boh probabilmente la strada da cui sono venuto non viene usata molto non ne ho idea quella lì è la polizia ma che cazzo di colori strani c'hanno è tipo bianca e rossa con tutta tamara è tamarrissima interessante le paleoliche qua mi sembrano un pochino più piccole di dimensioni però hanno tipo il lampeggino sopra per qualche motivo così almeno le puoi vedere anche di notte dalla strada non penso che ripassino così bassi però boh qua a destra dovrebbe esserci il parco nazionale di Kempen da quel che ho visto dal cartello non ho idea di che cosa ci sia dentro però visto che sono in mega anticipo se c'è un qualche modo per visitarlo magari mi fermo non lo so boh io provo a vedere questo parco nazionale dove cazzo è? non ho visto il cartello porca puttana dov'è? mantieni la destra al bimbo era dritto? mi sa che era dritto mi sa che era dritto non vorrei dire la cagata? non era dritto sono strozzo? dov'è il parco? non è che si capiscano benissimo i cartelli qua boh comunque bello bello ho visto un pezzettino di parco dai almeno dall'auto e ho fatto una deviazione che non so di quanto l'ho allungata che gioia allora io ho impostato per andare a un mcdonald vediamo se almeno qua c'è il mcdonald senza glutine così giusto per controllare guarda neanche c'ho voglia di mcdonald ormai c'ho rinunciato boh ho cambiato idea e fa ancora pure il mcdonald se ne trovo uno sulla strada bene altrimenti non c'ho voglia di far deviazioni allora mi fermo un attimino stai zitto mi fermo un attimino guardo un secondo anche la benzina quanto costa qua se è migliorata zitto google porca madonna e niente e non mi ricordo cosa stavo dicendo ah ho provato ste patatine porca puttana sono buonissime stanno della salsa yogurt del kebab uguale è buonissimo il kebab io non lo mangio da 14 anni zaziki style buonissime se le trovate provatele le altre invece faccio una schifo quelle al bratwurst carry ma queste tanta roba ho visto che c'è il coso per la pressione delle gomme automatico e questo non sembra distrutto come l'altro e visto che ho un paio di gomme che sono leggermente più altre le altre provo con questo c'è anche la la roba che ti dice i vari modelli di auto la pressione e tutto il resto figo vabbè sono troppo avanti qua selezioni i bar o il psi che vuoi vai qua alla tua gomma tiri via il pirulino appoggi e lui fa tutto per i cazzi suoi quando bippa è a posto la pressione ma sono troppo bravi cioè letteralmente due minuti ci ho impiegato contro i 20 minuti dell'altro perché era rotto adesso proviamo a vedere qua se c'è qualcosa senza glutei è la prima volta che vedo robe così in un autogrill cioè ci sono i pasti pronti non le cagatine solite di merda e ci sono anche queste c'è un po' di tutto sembra un supermercatino in miniatura sono anche stecionate qua che ovviamente non posso mangiare carino carino sto posto immagino che questa sia una marca famosa di cioccolati leonida quelle le scorze d'arancia 8,50 euro puttana merda sti cosi mi perseguitano mi perseguitano ovunque io vada non ho ripilanti questo l'avevo provato il bifi senza senza il pane e boh non lo so guardatevi i primissimi video del viaggio allora qua servono 70 centesimi per andare in bagno un po' mi girano i coglioni vi dirò io mi sa che la tengo e c'è what the fuck distributore di M&M questo è strano molto belli e profumati i bagni direi funzionanti anche c'è il coso automatico c'è il coso per buttare in ognuno c'è il coso per buttare la carta che è qua sotto ed è tutto bello funzionante e belli puliti nice bene ho fatto la rifocillanza la pressione gomma è giusta e mi mancano 85 km me la prendo con comodo e in più già che c'ero ho anche scaricato le mappe offline così non consumo i giva sapevo che mi sarei dimenticato qualcosa porca troia il liquido dei tergi e vabbè mi fermo alla prossima allora la benza qua è perché c'è scritto euro al posto di benza comunque 1,7 e 70 già fattibile non mi serve in questo momento ma mi fermo perché devo mettere assolutamente l'acqua nel tergine non ci vedo più un cazzo è tutto sporco allora visto che non mi ricordo assolutamente dove minchia ho messo l'imbuto farò un imbuto così mi raccomando non usate bottiglie con dentro che ne so coca cola o altro o sciacquatele bene prima di usarle bevi piccola macchinina bevi che ti fa bene devi idratarti mi sa che ci va dentro tutto mi ha fatto fuori una tonnellitrata proprio e la madonna che vento c'è ah ma che bello guarda come bevi come si sta dissetando la macchinina e la madonna vaffanculo sto vento di merda ok piena perfetto è avanzato un goccino proprio finalmente posso di nuovo lavare anche quelle dietro ci vedo di nuovo abemus vetro pulitum o come si dice in cecoslovacco ok era un po' che non vi facevo vedere questa prospettiva scusami non mi vedete ogni tanto e boh mancano 40 km un po' annoiato spero che ne valga la pena di aver fatto tutta sta strada per vedere Bruxelles sinceramente perché è stata tanta la strada è stato Bruxelles Bruxelles mancano 30 km all'arrivo nel punto esatto dove devo parcheggiare sempre sperando che ci sia il parcheggio perché dovrebbe essere il parcheggio gratuito ma mi sa che è solo due ore e poi alla sera diventa gratuito quindi o continuo a cambiare il coso orario o non so comunque le patatine di prima continuo a ruttare il gusto di quello yogurt lì mi sembra di aver mangiato un kebab senza aver mangiato un kebab cioè dai oggettivamente qual è la cosa più buona del kebab la salsa la salsa yogurt salsa scibola no piccanto tanta salsa quello io lo prendevo così quando potevo ok continua per 12 km c'è coda qua per qualche motivo non so cosa ci sia magari mi innesto in un'altra parte di strada e quindi vediamo dice che mancano 18 km 18 minuti speriamo c'è il cartello Expo hanno fatto un Expo anche qua non so non so nulla io quindi boh ci ho fatto caso adesso che stiamo andando pianissimo le targhe belghe sono sono rosse cioè bordeaux tipo bordeaux scuro non sono nere le scritte una cosa c'è da dire gli innesti sono fatti un po' col culo l'ho notato anche all'inizio quando ho sbagliato strada perché non stavo filmando ma dovevate vederlo era un ingresso veramente strano non lo so queste cose un po' sono strane qua è giusto ci ho fatto caso solo adesso è un po' che non vedo quei cartelli strani che c'erano appena entrati tipo 9000 10.000 quelle robe lì adesso ci sono cartelli normali non lo so prima o poi scoprirò se magari me lo scrivete nei commenti cosa minchia sono altrimenti comunque lo cercherò su google google ha appena avuto un aneurisma mi ha detto fra tot chilometri allo svincolo qualcosa di simile non so se fosse effettivamente quello che c'è scritto sul cartello ma dubito penso che fosse strombikbever ma l'ha pronunciato in modo assurdo perché cazzo c'è scritto grut bgingiarden cosa c'entra grut è un vero posto si chiama eh avete sentito l'ha detto di nuovo quella roba strana vabbè è pazzito ha appena detto una roba strana prendi l'uscita basilic basilic verso l'uscita basilic basilic non lo so io google qua ha problemi prendi l'uscita basilic basilic prima l'ha ripetuto tipo 30 volte vabbè ho davanti la sorrellona più grande della mia la yaris cross sempre libera da uguale perché ero indeciso se prendere questa o quella ma alla fine è lo stesso identico telaio di questa e hanno semplicemente allungato di 20 cm il muso e 20 cm il culo cioè boh alla fine hai pochissimo spazio all'interno in più e non ha molto senso cos'è sta roba cos'è quel mega palazzo what the fuck lì devo andarci se si posso col drone comunque assurda sta roba cioè arrivo inizia a piovere io boh comunque parvis notre dame sono tipo non so non so perché si chiama notre dame ma boh speriamo non prenda fuoco no vabbè quella è figa quella è una bella chiesona o duomo o qualunque cosa sia carina molto carina lì devo devo fare un bel giretto cioè ma che roba cos'è sembra il duomo di milano ma un po' più grosso mi sembra allora stavo guardando per far volare il drone oggi c'è un tempo di merda e ci sono folate di vento fino a 70 all'ora quindi niente ma domani verso le 9 di mattina che c'è già il sole anche perché prima non ha senso volare è fattibile e potrei farlo tranquillamente allora lascio lì la macchina ho messo un timer fra un'ora e mezza così sono sicuro di arrivare in tempo e adesso do un'occhiata in giro perché vorrei sapere come pagare il biglietto perché ho visto che si può fare da un'app però non ci ho sbatti sinceramente preferirei consumare le monetine qua non so che zona sia però credo sia una zona bella visto quel coso ancora questi dossi strani guarda cosa fanno le macchine danno delle legnate ok trovato il posto si apre quindi è quella la porta boh a sto punto faccio un giretto vedo se riesco a trovare qualcosina di senza glutine eh sarebbe carino far volare il drone ma è impossibile qua c'è square du 21 juliette portale e c'è il cimitero in quella direzione quindi ci andrò c'è anche l'atelier di ciccio pasticcio il museo del reverber non so cosa sia e palazzo della maison rouge a maison micro vabbè non lo so non so tradurre non c'ho sbatti di tirar fuori il traduttore e qua c'è una brasserie e quello forse no adesso vado a allora primissimissima impressione sono entrato in sta brasserie qua mi ho chiesto se parlava inglese ma risposto in francese immagino che i belga siano come i francesi a questo punto non lo so è letteralmente la prima persona con cui ho parlato quindi c'è amistà sul cazzo che bello allora sono di fronte al duomo di milano ma ho trovato qualcosa di più interessante il cimitero quindi andrò a fare un giro al cimitero noto con piacere che non c'è scritto assolutamente un cazzo niente in inglese neanche nei nei cosi che spiegano e visto che loro si rifiutano di tradurre perché sono praticamente dei francesi a questo punto mi rifiuterò anch'io di tradurre e immaginerò le cose per come le vedo allora c'è da dire che questo cimitero mi fa cagare e penso uno dei più brutti cimiteri che abbia visto finora e rivaleggia quello di Bergamo che anche quello è parecchio brutto è un cimitero classico classico cimitero orribile non ha niente di speciale tutto in ordine ci sono le viuzze in sassolini cazzo era più bello quello di Vilnius del 1800 sa l'ol cazzo è pieno di queste cose qua mezze sfondate non so non tengo niente bene c'è guarda qua hanno proprio fatto il minimo necessario per tenerla pulita qua e poi il resto l'hanno tenuta a merda cioè è triste che cazzo fa questo qua è triste il fatto che cioè sia più bello un cimitero abbandonato dell'800 di uno che in teoria dovrebbe essere ancora in uso non lo so cioè ditemi voi cosa ci leggete è tutta l'ercia Ippolite Pic qualcosa Luis Gallite 905 ma una passata con l'idropulitrice no che delusione mi sono tirato fuori l'ombrellino perché sta iniziando a piovere bene non c'ho voglia di farmi venire allo square house cioè tipo qua cos'è caduta un pezzo di una lapide di qualcosa e la madonna che vento c'è boh è un classico cimitero normalissimo trist questo almeno una palla di cannone non so sarà stato un cannoniero o sarà stato ucciso da una palla di cannone e gliel'ha messa lì per ricordaglielo chi lo sa quella cos'è una mini chiesetta vicino alla mega chiesona comunque non so io è un po' che non vado a Milano mi sembra più grande del Duomo almeno come altezza non so poi effettivamente se sia più grande cosa cosa significa esattamente è volutamente così dall'inizio o è stata spaccata e le catene che c'erano attaccate le hanno scaraventate lì e se ne sono sbattuti il cazzo questo posto non mi piace e a me solitamente i cimiteri piacciono ma è conciato veramente male anche sta roba di fare le statue tristi ok sì va bene una ma ne ho viste più di una sono più o meno tutte simili probabilmente le hanno fatte fare dallo stesso tizio e la tomba in sé fa schifo sono tutte uguali cioè guarda quella uguale a quella uguale a quella altra tomba mezza distrutta non riesco a capire come abbiamo fatto a sfasciarla così ma dubito sia stato il tempo a fare un danno simile lì gli hanno fatto cadere qualcosa sopra o magari gli è caduto un albero no sta cosa che se ne sbattono la minchia di tenerlo un po' curato questo posto denota un po' come come sono stato trattato due secondi fa nella brasserie questo non riesco a capire se è una cappella o se è tipo una cripta di famiglia tipo famiglia reale l'aperta no ovviamente in realtà qualcosa lì tipo un attimo scassinarlo ma non penso che lo farò che è sta roba bello ennesime tombe tutte identiche ennesima pseudomaria salcazzo questa è carina questa è l'unica carina che ho visto finora con tipo il cazzo il porticato come come si chiama non mi viene il nome vabbè quel coso qua poi magari una panchina non è neanche una tomba non si capisce niente c'è qualcosa scritto sì ma ovviamente è coperto da merda e quindi non si legge ottimo cosa avevo detto identica all'altra cioè altra posa ma lo stile è identico quindi le hanno fatte tutte con lo stampino chiesto J.Denis Devos J.Denis Marie Devos boh 1963 e quello è morto nel 19 ah questa non è considerabile tipo appropriazione indebita di sculture famose no eh così la butto lì ennesima brutta statua identica a tutte le altre guarda quante questo qua ha fatto un casino di soldi a fare tutte ste sculture brutte Luis Brenta magari è famoso non lo so allora se il tempo peggiora che aumenta anche il vento e inizio a bagnarmi nonostante l'ombrellino mi metto il poncio di cerata che ce l'ho apposta per tutte le emergenze io ho sempre dietro tutto tutto sono previdente infatti in questo momento sto anche ricaricando la telecamerina con la power bank ok che non è un'attrazione turistica tecnicamente il cimitero ma è tipo l'unica cosa che guardo in genere nelle città però ste cose sono praticamente tutte distrutte e la madonna aiuto resisti ombrellino resisti oh merda e la madonna aiuto aiuto ma che vento c'è non c'è assolutamente niente il degno in questo posto cioè io vi dico in Giappone ad esempio i cimiteri sembrano dei parchi naturali sono bellissimi è lì che mi è venuta la passione per i cimiteri in Giappone nel 2007 ok prima non me ne fregavo un cazzo perché avevo sempre visto questo tipo di cimiteri che fanno schifo ma poi lì mi è venuta la passione per quello che li cerco in ogni città in cui vado boh basta ho girato abbastanza sto cimitero perché mi ha fatto schifo guarda poi tra l'altro ci sono la pavimentazione a volte ci sono i sassolini a volte non c'è niente c'è il prato boh cioè ma cosa vuol dire sta tomba qua nell'angolino mezza tagliata via in tutta storta in mezzo alle altre cos'è ha pagato di meno e cosa vuol dire questa con l'edera tutta sfondata mezza aperta cos'è ha rubato la roba dentro questo cognome l'ho già visto da qualche parte ma vorrei far notare che ha una vocale su sette lettere con un off almeno almeno questo un po' diverso lo è non so magari sono di Stonehenge questi tizi o non c'erano voglia di pagare per decorazioni e hanno lasciato le pietre così in ogni caso questa è la più decente finora mi sa che qui ci stiamo bello bello la cordicella in plastica mi dicevo mi sa che qua ci stiamo avvicinando a quelli che hanno il pisello più grosso di tutti perché guarda in mezzo alla piazzetta questi qua Gemar Melles Rosalie Sophie Henriette Gemar ok Rip non so chi tu sia ma mi sa che hanno pagato troppo comunque quella bara perché non mi piace neanche quella e basta cioè il resto del cimitero fa cagare non ci vale neanche lì là non ha senso sono tutti uguali basta quitto qua c'è tipo la tomba di Babbo Natale o quel che è o Stalin non lo so ma comunque si chiama Emil Box Style è morto nel 20 ha tipo 82 anni e però lì c'è un'altra data non lo so c'è scritto Ekevin 1872 877 comunque Borgomastro di Lyken che non so cosa sia un Lyken ma mi fido e ah marco dio sto vento sono quasi all'uscita qua c'è una zona diversa però cos'è un monumento ai caduti qualcosa di simile famiglia di Prince Gua Gua tin tin don schollert boh questi qua secondo me hanno pagato di più per essere qua più vicini all'ingresso così non devono camminare e sta roba? ah sì no 40-45 che deve essere qualcosa per la seconda guerra mondiale boh nel dubbio non c'è scritto un cazzo a parte la data interessante ah e ci sono altre tombe lì quelli magari sono queste qua allora in memoria di Andela Kenselden Vardenf Cappen der Kühl 40-45 come 40-45? e poi perché è rotta anche quella? qua agli eroi la Chenoa Disparus della guerra insomma questi qua sono tipo dei caduti ma mi sembrano un po' pochine come tombe sinceramente cos'è hanno perso così poca gente qua? questo ci aveva 31 anni quello 33 come me insomma tutti i morti fra il 40 e il 44 non so se sono in ordine cronologico non penso vabbè comunque sono pochini dai cioè è morta c'è più più gente a Bergamo dei morti c'è anche la macchinina per andare in giro per chi c'ha il culo pesante l'hanno coperta prima non era coperta e adesso mi metto lì sotto la tettoia mi metto il poncio perché il povero ombrellino qua non ce la fa con tutto sto vento e non ho voglia di andare fino in macchina a prendere l'altro adesso io non so cosa cazzo stia succedendo ma è da quando sono arrivato qua che continuo a sentire sirene di polizia ambulanze cosa cazzo sta succedendo sono figo ho messo dentro anche lo zaino così sta al coperto e non si bagna anche se è impermeabile e adesso andiamo a fare un giretto in quella minchia di duomo lì o come cazzo si chiama raga volete sapere che cosa ho detto quando ho scoperto che qua parlano francese fuck non so chi sia però fargli dire ma che vento c'è allora sta la chiesa iniziata nel 54 perché la regina è morta e bla 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 cose varie non mi interessa questo è l'ingresso immagino di non poter urlare troppo all'interno quindi mi sbiglierò allora dovrebbe esserci la messa l'adorazione bla 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 oggi è venerdì quindi alle 17 ma sono le 15 quindi direi di no e in più è visibile via youtube wow ok non c'è neanche l'acqua santa e c'è una chiave dentro ok niente visitatori durante la cerimonia ma la cerimonia non c'è quindi non c'è nessuno sono letteralmente l'unico dentro in chiesa l'unico stronzo e i cosi qua non vanno porco schifo vabbè fanculo ma cosa cazzo sta succedendo cosa stanno ristrutturando come al solito spiegazioni in francese o quel che è e niente in inglese quindi per quanto mi riguarda non le leggo questa la dice lunga della qualità cioè c'è una mattonella riparata con lo scotch io sono venuto qua a Bruxelles pensando che fosse la capitale dell'Europa un posto avanzato ma se trattano così la roba storica magari la roba recente la trattano bene ma dubito dubito altamente cos'è sta roba j card card j 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 solo adesso gli affreschi che sono praticamente tutti devastati ma mi pare che nel duomo di milano qualcosa sul soffitto ci sia invece c'è cielo azzurro e dipinto anche male che bello aiutaci a decorare questa chiesa coi fiori grazie no 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 questa cosa è una croce o una pen di abiti cripta ok mi era morta la batteria dicevo qua c'è la cripta ovviamente non si può andare giù che bello allora io non so assolutamente niente di sto posto ma mi sembra l'asilo a cui andavo con le sedie così minuscole le reti sul tetto sto tizio che non so che sia ovviamente c'è scritto tutto questo almeno in inglese dai ma comunque non c'ho sbatti non so che sia non ci voglio neanche di saperlo mi sembrava strano che fosse tutto scritto in inglese no l'unica cosa scritta in inglese è un pezzettino di quello resto tutto in questo cazzo di lingua e mi rifiuto questo immagino sia tipo la ricostruzione dell'ufficio del tizio con le sue robe così alla cazzo di cane non so o che sono venuto mentre stanno restaurando o cioè sembra abbandonato sto posto smaller dal questocastico ennesima ora se ne frega tanto dei turisti a sto punto immagino che l'intera chiesa o qualche sia diventato museo per sto tizio perché altrimenti non si spiega ce c'è un tavolo basta c'è nient'altro delusione totale comunque noto con piacere che sono l'unico che mette la mascherina a parte di due tizi che c'erano entrati dei turisti anche loro ma per ora non ho visto nessun altro metterla da nessuna parte mi sa che questa è una chiesa sconsacrata a questo punto perché non c'è neanche l'acqua ossigenata lì l'acqua santa e non mi è venuta l'orticaria come mi succede di solito entrare nelle chiese comunque questa è la bellissima vista del strada non so cos'è questo riassume più o meno la mia prima impressione lattina vuota e carcassa di uccello spolpato da gatti o che sono nella parte sfigata della città però ho visto dei cancelloni la magari c'è qualcosa di decente non potete capire cosa appena trovato secondo voi cos'è sta staccionata cos'è cosa può essere questa staccionata è un pisciatoio è un pisciatoio c'è gli manca il coso lì per lavarlo ma è un pisciatoio ma che cazzo c'hanno qua di problemi cioè è sensato è sicuramente sensato ma un minimo di boh mi sembra poca privacy fare pisciare così comunque sono arrivato a questa roba e bello neanche si può vedere dentro interessante cos'è cosa cos'è sta roba e perché è tutta arrugginita e non è tenuta bene per niente come tutto il resto ma che cazzo di posto di merda fa schifo bruxelles fa schifo cioè boh veramente sono solo nella parte sfigata non credo ma ganon perché ti porti sempre dietro il poncho cosa te ne fai basta l'ombrello dio cane c'è un vento che porco dio poi guarda bellissimo stop dittatura sanitaria sono letteralmente francesi questi qua un fastidio interminabile mi stanno provocando e poi continuano a suonare i clacson sono francesi gente a me sto posto non sta piacendo per nulla e comunque non vorrei dire ma è più bella praga di sto posto per il poco che ho visto e a me praga ha fatto schifo io dovrei andare lì in teoria ma non ci vado perché la puzza che esce è simile a quella di praga quasi peggio e poi in generale sembra una città abbandonata cose a caso sporca pia di francesi allora per qualche motivo ho dovuto riavviare il cellulare perché non mi prendeva il gps e adesso sto andando più o meno in direzione di un carrefour che dovrebbe essere quella direzione lì circa a 800 metri perché se chiedo alla gente ciao il segnale gps si è interrotto ancora non so cioè sono nel triangolo del bermuda comunque questo è il parco di anni cordi non so chi sia con commediante e attrice un'attrice comica bene ho giusto bisogno di farmi una risata dopo questa brutta esperienza immagino che questo sia tipo un coso d'arte museo ovviamente è chiuso perché mi sembra giusto così quindi fanculo pure il museo sono sempre più convinto di essere nel quartiere malfamato a sto punto ok però dai hanno il tram è un segnale di progresso ma non è un segnale di progresso è un segnale di niente qualcuno a cui frega vagamente di geopolitica può spiegarmi perché è stata scelta come città di sto cazzo bruxelles così è che chiedo per un amico ho trovato i frizzi pazzi ma non so mi sa che sto posto qua è un carrefour un po strano comunque si sono decisamente nella parte brutta della città molto brutta ferrero rocher 3 euro e 39 sono più o meno in linea con gli altri 31 euro e 33 euro al chilo mi sa che gli è pippo non ci sono no vabbè dai cioè è la mia sezione questa cipolle cipolle rosse cipolle ancora più rosse mini cipolle cipolle bianche quelle lì che non so cosa sono cipolle cipolle ovunque come al solito salumi vari italiano addirittura quello lì fabbricato in italia salami milano ci credo gran poco ci sarà qualcosa senza glutine ma cosa cazzo sto guardando ma perché quelli della fila delfia fanno ste cose cos'è pomodori secchi e chili con aglio c'è la sezione gluten free c'è la sezione gluten free costa tutto lira di dio costa ancora di più e fa più schifo è quello della siria no maledetti bifi ci sono anche i pseudo salamini beretta questo non so cosa sia e non so neanche perché è fuori dal reparto frigo visto che è formaggio sono disperato i prezzi sono decisamente alti e sta pizza bolognese formaggi guarda mi fa star male solo a guardarla per fortuna non posso mangiarla e visto che nella scorsa nello scorso video vi siete lamentati della battuta del cibo per vostra madre ecco il cibo per vostra sorella ok che il carrefour costa sempre di più in generale anche in italia però se tutti i prezzi sono così io direi che mi sa che passo due giorni senza mangiare qua questi questi hanno un prezzo sensato 1 euro e 31 mangerò fagioli fagioli per due giorni allora questi sono i miei pop quelle cagate lì quanto costano secondo voi non so quanti grammi sono ma sono 15 cose comunque 6 euro 450 grammi allora la pepsi max lemon l'avevo provata è meglio la lime nostra questa è nuova la cherry devo provarla ovviamente latte latte mi sa che è scremato però e creme c'è anche dei miei creme ma non c'è la bottiglia piccola non lo vedo eccolo lì prendiamo questo penso penso di essere abbastanza disperato da prendere le uova patatine con il formaggio di capra credo chèvre non lo so cos'è chèvre sinceramente non so il francese e in più c'è questo qua il pickle alla fine mi sono preso anche i frizzi pazzi succhiacca e non si dice niente 5 ore qualcosa e morirò di fame a sto punto morirò di fame comunque si sono decisamente in un ghetto decisamente allora stavo aspettando in macchina come potete vedere dalla dall'appannaggio che arrivassero le 5 e per puro caso mi sono informato un pochino su boxel a parte che sono in una zona decente ma letteralmente dove sono andato a fare la spesa prima è tipo il posto da evitare in assoluto per i turisti è qua attaccato quindi bene in più c'è un minaccia di attentato terroristico ma visto che non sto mai in zone affollate non dovrei avere problemi e tra poco se magari arrivano le 5 vado anche dentro e mi scongelo perché sono bagnato fra di giù ok sono ma che cazzo sta succedendo sono le 5 comunque oggi mi odio anche questo vabbè sono le 5 sbaracco la roba e entro perché sto iniziando a ghiacciare cosa c'è di meglio di un vecchio che sputa per terra sgracchiando per rinvigorare l'umore ok vediamo un po' dove minchia è sto posto oh Gesù le scale sono strette perfetto scale in legno e strette come piacciono a me uno due oh Cristo è ancora più in su la mia ciao tu ciao cartello oddio stanza 3 come non ci aiuto non passo dalla porta mi sono incastrato con lo zaino aiuto ok prima impressione qualche stronzo ci ha fumato qua dentro e anche recentemente apriamo beh che dire spaziosa perché non c'è dentro niente la vista è bella si vede il cimitero si vede un po' di quella roba là sarebbe carino riuscire a vedere la macchina e non ci arrivo e appena finisce di esserci puzza di fumo chiudo la finestra meno male che ha smesso di piovere adesso vi faccio vedere un paio di cose strane a parte la porta che non si apre allora qua c'è il bagno con la luce doccia piccolina questo come funziona? si apre così cosa vuol dire? altra roba toilette col comic sans? è scritto in comic sans? no ci sto è un po' claustrofobica ma ci sto ma vorrei far notare una cosa secondo me questo pavimento è inclinato per così così è inclinato io dopo provo a mettere qualcosa per terra e vedere se rotola verso quella direzione perché sono abbastanza convinto che sia inclinato tutto zona lavaggio cucina ok va bene e lì c'è l'altra stanza degli ospiti la 4 io spero non l'affittino perché se no quel poveraccio che deve salire su quella roba lì e poi beccarsi la gente letteralmente sotto di lui che cucina non lo so intanto che setto tutta la roba e mi ripiglio un attimo assaggiamo sta cosa beh dolcissima praticamente uguale a coca cola cherry orribile ma buongiornissimo piccole pustole purulente ma che bella giornata sembrerebbe perfetta per far volare il drone e soprattutto per andare giù a controllare la macchina se c'è ancora e cambiare il disco orario perché anche se il proprietario mi ha detto ma no ma tranquillo non passano mai a controllare io non mi fido per niente quindi adesso vado giù comunque io non me la ricordavo così ripida ieri sera le vertigini non aiutano per niente cos'è quello? un terrazzo? madonna qua credo ci sia una ragazza cioè almeno l'ho incontrata penso sia una una però penso di averla inquietata un po' non lo so faccio paura alle tipe io a quanto pare non lo so sarà che è tedesca e come tutti i tedeschi che ho incontrato non le piace molto chiacchierare allora per esserci la macchina c'è per fortuna vediamo se è anche intatta è ancora intera stanotte è andato sotto zero se è ghiacciata ok devo tirare fuori un po' di merda accumulata durante il viaggio e non sembrerebbe che io abbia preso molte bene il video che vi dicevo l'altro giorno vedi ce l'ho qua però mi è rimasta tipo l'ultima dose la tengo per le emergenze ho preso questo che mi serve per lavarmi e prendo anche un cambio vestiti comunque è veramente un peccato che quella roba lì sia tenuta così male che si è tenuto tutto così male in realtà va vale capire e comunque con ste scale mi viene male a salirle comunque sta stanza nonostante l'abbia aperta appena arrivato non l'abbia nonostante l'abbia tenuta aperta adesso è impregnata di fumo di sigaretta proprio è dentro i muri ok dopo 5 giorni a lavarmi a pezzi direi che è il tempo di farsi una doccia perché tutte le altre docce erano un tipo grandi come metà di me e non ci stavo quindi un po' un problema questa sembra di dimensioni accettabili e in teoria dovrei riuscire quindi ci vediamo dopo bene docciato è anche una bella doccia devi dire sono stato comodo e funziona bene ottimo ok scendiamo sono le 10 mattina circa e in teoria tutta la zona qua attorno dovrebbe essere volabile via drone quindi non dovrei avere problemi grossi oh no le scie chimiche ci stanno contaminando col 5G e i vaccini comunque io direi che il primo giro col drone lo faccio attorno alla chiesona e magari sopra il cimitero così vi faccio vedere quanto è brutto beh oggi che non c'è vento e diluvio universale si vede un po' meglio sta roba è un peccato perché sembra anche carina come costruzione è solo che è tenuta col culo proprio allora un pochino di vento c'è ancora ma sicuramente è molto più fattibile di ieri adesso un attimo che mi prendono i satelliti e poi decollo ok allora ho fatto una bella 360 adesso faccio anche una una bella 180 bene possiamo atterrare vediamo di non schiantarci troppo perfetto e adesso andiamo a fare un giretto da qualche parte non lo so allora rieccoci là c'è la chiesona rieccoci al sottopassaggio orribile io ho messo sulla mascherina perché sinceramente non voglio prendermi il colera che bello proprio un bel posto questa spero non sia piscia comunque dai la puzza non è così orribile come a Praga allora ieri per andare a fare la spesa sono andato di là ci sono vari murales a caso io non so qua la polizia passa ogni due minuti o un'ambulanza o qualcosa per qualche motivo sono appena passato davanti a una casa e ho sentito l'odore di tortellini in brodo non lo so c'era una vita che non sentivo l'odore classico delle cucine delle nonne quasi quasi vado a farmi una pedicure no in realtà i miei piedi sono morbidissimi non mi vengono mai i calli neanche sulle mani ok che non faccio un cazzo ma anche quando facevo qualcosa non mi vengono i calli allora dall'altra parte della strada ho visto un mini market magari mi fermo lì vedo se c'è qualcosa di commestibile ovviamente era chiuso mi sembra giusto così c'è un salone del tè lì cosa cazzo è un salone del tè dunque 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 sono arrivato in questo luogo non so cosa sia non ne ho la mia idea e lì c'è tipo un fiume orribile bruttissimo tutto marroncione pieno di murale se a caso piccioni che bello piccione guarda che lo faccio volare vedi riesco a far alzare gli uccelli con l'imposizione delle mani comunque farei anche volare il drone qua il problema sono tutti quei corvi gabbiani piccioni e finché sono piccioni ok ma gabbiane e corvi mi sa che il drone lo attaccano di brutto e quindi niente qua niente drone perché non mi fido allora questa più che un'opera d'arte sembra un ritrovo per drogati e alcolizzati per venire a vaccinarsi diciamo e bere fumare lì è mezzerotto ma è tutto mezzerotto tutto sempre scassato in sto posto e ovviamente non c'è mezza targa per sapere cos'è sta roba cos'è devo controllare su google per vedere cosa cazzo è sta roba una targa un cartello qualcosa forse ho trovato la targa autreveil il travaglio il viaggio non lo so non so questa cazzo di lingua comunque bella la targa dello stesso identico colore di tutto il resto che non vedi a meno che tu non ci faccia caso proprio che devi stare a cercarla oddio stavo per volare giù da bella anche il gradino improvviso che ti uccide è appena passata una canoa qua sotto ma non ho fatto tempo a iniziare a filmare e niente sono su questo bellissimo ponticello bello bello mi piace quasi quasi vengo a dormire qua al posto che è nel bnb e boh io sto andando in quella direzione generale non lo so ci sono dei palazzi ci sarà qualcosa là allora la scelta è andare di là o di lì di lì ci sono i palazzoni ma mi sembra una zona bruttina tipo tutta cantieri e robe varie di là sembra una zona comunque brutta quindi boh provo a andare di là beh dai una cosa intelligente l'han fatta i passaggi pedonali a rate così non bloccano tutto il traffico contemporaneamente ma i pedoni vanno un pochino alla volta man mano e quindi passano un po' tutti sì decisamente ho fatto bene a non andare di lì perché non c'è un cazzo non c'è nulla quindi andrò di qua e la chiesona è a quella distanza c'è un lavaggio auto a mano lì non sarebbe male sinceramente però vedo che ci sta una macchina alla volta e non so neanche quanto possa costare sinceramente comunque questo posto è letteralmente Parigi ma più brutta ancora e con ancora più gente che fuma è incredibile non pensavo si potesse peggiorare Parigi vabbè che l'ho vista l'ultima volta tipo vent'anni fa magari è peggiorata ancora di più nel tempo ho attraversato la strada perché l'altra parte c'era quella lì con il bambino che urlava mi hanno seguito ma porca puttana però ho visto una cosa c'è la Lidl la Lidl la mia salvezza il mio unico amore per qualche motivo l'ingresso lì è chiuso però vedo la gente che entra da là quindi come cazzo si entra in sto posto vabbè entriamo in sta Lidl vediamo un po' come sembra grossa sinceramente a vederla dall'ingresso allora secondo posto in cui entro qua non c'è il coso lavamani che funziona e in più non chiedono il green pass quindi boh e nessuno ha sulla mascherina quasi adesso io non so i prezzi sinceramente della frutta perché la prendo raramente ma mi sembrano altini ci sono i cavoletti 1 euro e 50 scontati vabbè un chilo dai è buono quasi quasi cosa ho ritrovato è quello che prendevo su Avilnius uguale ma questo non costa leggermente di meno in più non è riciclabile per qualche motivo ci sono le patatine fritte da fare interessante formaggi vari con questo qua con con la cipollina vediamo vediamo se è senza glutine ovviamente al glutine perché il glutine nel formaggio è necessario sushi 4 euro oddio eh non lo so non lo so non lo so ma vendono il carpaccio con il parmigiano e il limone dentro nella confezione interessante questo 2 euro e 79 120 grammi per la pochissima quantità di parmigiano che c'è dentro boh è però interessante oddio sono tornato alla civiltà c'è il basilico c'è la menta oddio ci sono ci sono cose con cui cucinare incredibile vabbè varie qua funghi champignon un euro la carne è decisamente costosa vediamo tipo carne trita quanto costa non lo so non si capisce 6,99 hanno messo tutti i cosi a caso boh filetto di maiale 375 grammi 12 euro decisamente costoso ci sono di nuovo le salsiccione ma non mi ricordo quanto costassero in germania però queste sono belghe quindi le salsicce di salame i se salamotti come cazzo si chiamavano me lo sono dimenticato me l'hanno anche scritto mi son detto dai prendiamo sta cipolata visto che si chiama cipolata no pangrattato all'interno adesso proviamo a vedere questi ma sono giganti però niente è incredibile in ogni cazzo di wirstel c'è dentro la farina di grano apposta per dar fastidio a me ci sono i sacchetti di cipols ma sono enormi quindi mi sa che prenderò ognon bio 1,35 piccoline però dai meglio di niente c'è la pepsi max lemon a 7,99 scontata una lattina 54 centesimi è tantissimo costano 31 da noi zona pesci vario filetto di salmone 200 grammi 4,99 e quello non è male 2,50 euro al letto però boh cioè non lo so vediamo questo qua norvegese 200 grammi 3,99 costa 2 euro al letto questo qua e non è male potrei prendermelo adesso però mi serve l'avocado dove cazzo è l'avocado non ci sarà mi sa che non c'è eccole qua ho preso l'avocado ma ho notato che non ci sono sacchetti non ci sono guanti non c'è niente zona salumi orribili non lo so non lo so Rocky questo è interessante questo è veramente buono sul filetto sulla tagliata fate una salsina con rockfort è spettacolare e ovviamente costa poco qua ho una domanda brisaula di black angus italiana 80 grammi a grosotto è stata prodotta 2,69 euro no grazie pecorino romano dopo addirittura quanti grammi 200 grammi 2,99 no fattibile ci sono un sacco di formaggi robe varie c'è il parmigiano reggiano grana padano il problema è che bene hanno le roba senza lattosio ma la roba senza glutine io non ho ancora vista soliti yoghurt varie prezzi di questi sono è un po' no però è tanto sono tante solitamente la confezione è da 6 da noi siamo lì io ho girato un po' tutto e non ho trovato neanche una roba senza glutine proprio zero continuerò a cercare finché non finisco di fare il giro ma non c'è niente zero solite cagate sotto marche robe simili sulle lez ci sono queste ovviamente niente senza glutine beh che dire grazie mille maledetti francesi pseudo francesi mai un cazzo mai niente all'estero odiano i celiaci li odiano allora neanche mezza persona con la cazzo di mascherina su geusta mi stan sul cazzo e fanno come i francesi cioè ti vengono addosso e non chiedono scusa né niente non gliene frega un cazzo di nulla e boh non lo so non mi è piaciuto comunque ho speso 8 euro e qualcosa per ste due cagate bene allora ho trovato un posto senza glutine su google si chiama italia in tavola va che coincidenza gli unici stronzi che fanno roba senza glutine in tutta borxelles e il problema è che è lontanissimo e a piedi è impossibile ci piego un'ora e mezza quindi mi tocca tornare indietro fino a là e prendere la macchina magari lascio sta roba in frigo e boh vediamo ho trovato una roba decente e cosa per fare i biglietti del busso di quel tram o quel cazzo che è qua così comodo comodo non lo userò ma comodo comunque a livello di fumatori sembra l'italia dei 15 anni fa forse di più per quanta gente fuma in giro è la prima volta che li vedo ma ci sono i poliziotti in bici è interessante sta cosa li avevo visti solamente nei tipo una serie tv orribile dei primi 2000 che c'erano questi poliziotti in bici che sderapavano e facevano cose inutili ora vi faccio vedere con la sola in posizione delle mani quanti uccelli riesco a far alzare guardate eh 3 2 1 non ho neanche dovuto urlare vedete solo con l'imposizione delle mani li faccio alzare e comunque rai Ricordatevi sempre che fare alzare gli uccelli con l'imposizione delle mani è un potere da non sottovalutare, è un'antica arte che non va dimenticata. E c'è da dire che comunque i migliori alzatori di uccelli sono gli uomini, come gli chef. Non so, è una cosa innata, ma a noi viene proprio bene alzare gli uccelli. Comunque, per quanto siano utili questi scarponcini mi stanno distruggendo i piedi e le ginocchia. Quindi, visto che non c'è più neve e bestemmie varie, mi sa che li metterò via e metterò gli altri scarponcini. Comunque dovevo capirlo dalle targhe che erano dei francesi. Si devono distinguerlo, devono fare i bulli. No, noi vogliamo le targhe diverse, noi vogliamo tutto diverso. Noi siamo meglio, fanno schifo a tutti gli altri. Perché dovremmo parlare inglese anche se lo sappiamo con un povero stronto che chiede aiuto? Ritorniamo nel tunnel della morte. Quei cocci di vetro è tutto distrutto, come il resto della città. Adesso, non so se è per il vento assurdo di ieri e oggi, però una cosa positiva c'è. L'aria sembra abbastanza buona da respirare. Ma probabilmente è solo il vento che porta via tutto. Vedete? Quello lì non è capace di far alzare gli uccelli. Li lascia giù, vedete? Vedi, si avvicinano a lui ma rimangono giù, moji, moji. Invece, vedi, appena arrivo io, subito si alzano. Ho trovato anche una pasticceria senza glutine. Peccato che sia chiusa sabato e domenica. Che quale pasticceria al mondo chiude due giorni di fila e soprattutto nel fine settimana? Altre scie chimiche ci controllano! Bisogna mettere i cosi di carta stagnola in testa! Ok, la macchina c'è ancora, bene. Non so cosa ci sia scritto, non c'ho neanche sbatti di tradurre. Nus, Nublierons, Pass. E ci sono dei mattoni con delle date 18.05.2021. Boh! E tra l'altro da dove li han tirati fuori quei mattoni? Da dove li han tolti? E' praticamente da sempre, da quando sono arrivato, che passano le auto della polizia e fanno un attimo la sirena e poi la spengono. Immagino che sia da deterrente a sto punto, tipo, c'è la polizia in zona, fatti i bravi? Altrimenti non capisco, o solo per dar fastidio. Allora, non c'evo voglia di ribaltare la macchina per cercare gli stivaletti, allora ho messo su le mie scarpe più sobrie che mi son portato. Dorate, cioè non è giallo, è dorato, cioè proprio metallizzata. E ovviamente calzini bianchi che fanno tanto sesso e attirano un sacco la bagina. Ok, con delle scarpe decenti va decisamente meglio camminare. Ecco, ho visto? L'ha fatto di nuovo. Vedi? Mi spengono. Boh. Sto un po' odiando queste scale, vi dirò. Più che altro, ok, mi reggono. Però il fatto che siano in legno a me non dà fiducia. Bene, a sto punto io vi dico. Scarico sti video sul computer e intanto mi mangio qualcosa. E eccole di nuovo! E poi dopo mangiato vado a vedere quel cazzo di posto senza glutine. Grazie.